Naturopatia in gravidanza, guida per un uso consapevole. Io sono Valentina Gans, naturopata esperta in fitoterapia e medicina tradizionale mediterranea. In questo episodio ti parlerò di fitoterapia in gravidanza contro gambe gonfie, emorroidi, infezioni delle vie urinarie e influenza. Quando una cliente mi annuncia di essere incinta faccio sempre un rapido calcolo per capire a che mese sarà durante l'estate. La stagione calda può infatti rendere decisamente infernale il problema delle gambe gonfie in gravidanza che costituisce spesso una criticità con il progredire dei mesi di gestazione, indipendentemente dal caldo. Se già partiamo da una base di insufficienza venosa e di fragilità capillare, correre ai rimedi al più presto e intervenire in chiave preventiva sarà fondamentale. Lavorando sul sostegno alla circolazione periferica potremo cercare di evitare un altro incubo gravidico strettamente connesso al deficit venoso, le emorroidi. Sempre seguendo i criteri di sicurezza ed efficacia di cui abbiamo parlato nel primo episodio dedicato alla gravidanza, la nostra scelta va necessariamente verso l'estratto di mirtillo nero frutti. Il frutto del mirtillo nero è ricco di antociani, acidi organici, flavonoidi e vitamine come provitamina A, complesso vitaminico B e vitamina C. In particolar modo gli antociani sono in grado di svolgere un'azione vasoprotettrice e anti-edematosa notevole. Aumentano la resistenza e diminuiscono la permeabilità capillare, proprietà alla base dell'attività anti-infiammatoria protettiva vasale di questa pianta, largamente impiegata per questi motivi sia come integratore che in cosmesi. L'estratto secco ad alto titolo di mirtillo nero è stato significativamente studiato in relazione a flebopatie, insufficienza venosa ed emorroidi in gravidanza già a partire dagli anni 80, con importanti miglioramenti dei sintomi. Nella prevenzione e nel trattamento delle emorroidi sarà fondamentale contrastare la stipsi e favorire l'equilibrio intestinale, adottando le misure di cui abbiamo parlato nel primo episodio di questo podcast dedicato alla gravidanza. Fitoterapia in gravidanza per il benessere delle vie urinarie, altro problema che spesso si riscontra durante la gravidanza è la cistite. Ci viene incontro in questo caso l'estratto titolato in proantocenidine di mirtillo rosso americano, il cosiddetto cranberry. Questo estratto viene utilizzato per la capacità di contrastare la sintomatologia di infezioni batteriche alle basse vie urinarie e a livello intestinale. In particolar modo la proantocenidina A2 è in grado di svolgere un'azione antiadesiva alle mucose delle vie urinarie nei confronti delle fimbri e dei batteri patogeni. In tal modo viene limitata la proliferazione batterica e la progressione dell'infezione. Il cranberry è stato accuratamente studiato ed è risultato sicuro e ben tollerato in gravidanza. Anche in questo caso sarà fondamentale portare l'attenzione sull'equilibrio del transito intestinale. Ricordiamo poi un'altra pianta officinale utile per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie, l'echinacea radice. Molto conosciuta e utilizzata per il supporto delle difese immunitarie e per il trattamento dei sintomi respiratori dell'influenza, l'echinacea è efficace anche contro i patogeni che comunemente sono responsabili della cistite. Uno studio prospettico condotto su 90 donne in gravidanza che utilizzavano l'estratto di echinacea ha confermato la sicurezza di questa pianta, che potremo quindi utilizzare sia per il trattamento delle infezioni minori delle vie urinarie in gravidanza, sia in caso di raffreddore e influenza. Se comunemente si utilizza con grande vantaggio l'echinacea anche nella prevenzione dei sintomi influenzali, in gravidanza eviteremo il più possibile il ricorso anche a piante officinali sicure in assenza di sintomi, intervenendo a supporto del sistema immunitario a partire dallo stile di vita, con un'alimentazione varia, ricca di nutrienti, con una funzione antiossidante fondamentale per rafforzare l'equilibrio immunitario della mamma. Se hai bisogno di confrontarti con me sulla tua gravidanza puoi richiedere una consulenza naturopatica in studio a Roma, Perugia, Città della Pieve, Abbadia San Salvatore oppure online. Grazie.